La semifinale di ritorno Per arrivare a giocarsi ritorno dopo il 7-0 dell'andata pesantissimo Intanto non c'era Il Liverpool ovviamente prende questo appuntamento Per aumentare minutaggio nelle gambe Per la finale che probabilmente al 90% ha conquistato già l'andata Le formazioni Pisano, difenza Riccio a Miranda Con Piccolo, Prisco e Formisano Fridente offensivo, il Cristal si schiera con Avoglio, Nocera, Limongello, Redi Abbatiello che è una novità Non c'è nemmeno nella lista ma sul 7-0 all'andata Abbiamo ritenuto Possibile la sua presenza Dunque con Nocera a centrocampo, anzi no, gioca a destra Con Mauriello a centrocampo e in avanti c'è Dario A disposizione Guarino Amoroso per il Liverpool Va Dario Palla dentro Palla che passa 2-1 Per il Cristal Prova col destro Dario E' spinta da Pisano Prova Mauriello, Pisano ancora Occhio Prisco che si stacca, Redi Ultimo uomo Ancora Prisco, contatto da dietro Formisano Ancora Prisco, palla di là Abbatiello, recupera Parte lui Doppio passo di Abbatiello Cerca il pallone verso Dario Murato Palla lunga Prisco Cerca la porta E c'è il gol di Prisco 2-2 Secondo gol per lui questa sera Lui che all'andata nel 7-0 Non aveva Marcato il tabellino Salta Miranda Poi Mauriello che alza il campanile Difenza Pisano Ancora difenza Pormisano Riccio Palla dentro Lunga per tutti 3-2 Cristal Attenzione perché ha segnato un gran gol Noscera Un diagonale di destro Sul secondo palo Piccolo Formisano 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 1-2 Avanza piccolo Entra in area Occhio Riccio Destro Palo Rete Piccolo 4-3 Anzi 3-3 Prova Noscera Pisano Si salva Poi Prisco Si allunga Cerca ancora la porta Avolio No c'era Cerca ancora la porta Ancora Batiello da terra Poi Amoroso 3-3 Ancora piccolo Allarga tutto Preso in controtempo Lorenzo Riccio Varedi Cercato Mauriello Combatte Fino all'ultimo Il Crystal Palace Nonostante Il divario Di 7 gol Dell'andata Questa squadra Che ha Fatto un percorso Di Champions Straordinario Trovandosi poi Di fronte Campioni in carica Nella settima edizione Lo sbordone Lì Che è anche all'ottava A questo punto Sono grandi chance Di giocarsi La finale Occhio da Biatiello Che forse Con un fallo Ancora lui Cerca il Pallone dentro Calcio d'angolo Va proprio a Battillo Palla per Mauriello Pennella Pisano Occhio Prisco Parte un 2-2 Contro Nocera Ancora Prisco Cerca il pallone Per Formisano Ready Ancora Formisano Mauriello Va Guarino Colpo di tacco Spara via Riccio Palla dentro Di Riccio Occhio Autorete Di Abbatello 4-3 Per il Liverpool Va Dario Deviazione Calcio d'angolo Palla dentro Di Guarino Limongello Anticipato Parte piccolo Poi anche Prisco C'è anche Formisano Tocco per lui Dentro per Prisco Che arriva col destro Ancora dentro Formisano Poi Dario Motteci il pallone Ancora Dario Abbattillo Nocera 1-2 Nocera Destro Largo E dalla Il lancio di Dario Palla che scorre Difenza Palla dietro Riccio Poi piccolo Ancora piccolo Riccio Dentro Avoglio Dario Sbaglia qui Ma con le mani Proprio amoroso Per Gianci Piccolo Al volo Sul fondo Ancora Dario Parte lui Cerca piccolo Cerca piccolo Sterza piccolo Cerca Dario Ancora Ancora Dario Che prova a girarsi Poi parte Ma ti aprisco 1-1 contro Limongello Chiude Formisano Prova col destro Palla Fuori di nulla Dai 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 Ok a voglio Prova a prisco A voglio Ancora Dario Ancora Dario Poi Riccio Enzo Rivia posizione Enzo Pallone di nocera Torniamo 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 Benzio Pula Non c'è Fai Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Le grande Non c'è Non c'è Non c'è Guarda io te l'ho detto Come la devi fa Per lui ma purtroppo sono successe Troppe cose questa sera Non siamo riusciti ancora a entrare In questa partita Scusiamo veramente con Prisco Purtroppo ci sono stati problemissimi Nella partita Ajax e Barcellona Prisco In rovesciata Dunque 5 a 3 ora il risultato Largamente In vantaggio il Liverpool è qui Altro gol di piccolo Dilaga Il Liverpool Si arrabbiare di Mamma mia Bordata di Abbatiello Su Formisano Non c'era Si è fatto male Non c'era Attenzione colpo di scena Redi spara Dario Fatte lui Dribli in secco Su difenza Poi Abbatiello Prova a entrare in aria Sterza così Poi Formisano Arriva anche Dario Maurillo Guarino Arriva Prisco Sinistro Abbatiello Doppio passo Prova ad andare Piccolo recupera Grande sfida Nella sfida Abbatiello Contro Prisco E Piccolo Va Prisco Tocco dentro Piccolo Si gira Calcio a rete 6 a 3 Abbatiello Abbatiello Al volo Poi Maurillo Prova Scusami Scusami Palla per Prisco, larga A voglio si stende, Prisco Abbatiello su di lui, recupera Ancora Abbatiello, aia, contatto Punizione, Cristal Già battuta però Mi sorpede a Miranda Occhio piccolo qua Parte il lancio di Dario Direzione Guarino Ancora da, ready Mauriello col destra Difenza Prisco Ancora difenza Prisco ancora Prova ad andare Ancora Prisco, salta 2 Formisano, tocco dentro Prisco tutto solo Salta il portiere Colleziona 7 a 3 Altri 7 8 No, 7 8 ragazzi Quindi pardon 8 a 3 Si allarga il risultato Per il Liverpool Dario Pisano Mauriello Tocco per Guarino Che entra in aria Pisano Ancora Miranda Cerca il pallone lungo Linea di là Per Formisano Sì ragazzi E' stato io Ma Carle Sì sì lo dico Anche con molto vanto Ragazzi era un po' di tempo La devo fare Prisco Formisano Palleggio Prisco col braccio Subito Mauriello Per Dario Avanza Dario Cerca la porta Pisano La manona Rinvia di Amoroso Pesca Formisano Poi Prisco che parte Red in chiusura Non c'è fallo Si continua Abbatello Dario contro Piccolo Secondo il pallone Giangiz Poi c'è contatto E punizione Parte il destro Di Abbatiello Ready Spara via A Miranda Andrì Abbatiello Prova a girarsi Tacco di piccolo Salta Formisano Ancora piccolo Prisco Tutto di prima Ancora piccolo Per Prisco Destro secco Deviazione Di Formisano Palla in rete Sale in cielo Formisano Palla in rete Saltato veramente A due metri Con un cross Al bacio Per lui Siamo Nove o dieci Nino Anche io ho perso Il conto Abbiamo perso Tutti un po' Il conto Amoroso Palo palo Di Amoroso Poi Rabona Di Formisano Raccontiamo quel gol Un cross Dalla tre quarti Di Formisano E salito in cielo Con il esterno Destro Sotto A voglio Infilandolo All'incrocio Dei pali Siamo ancora Purtroppo Molto scossi Da quello che è successo Nella semifinale Tra Ajax E Barcellona Non sappiamo ancora Quali Provvedimenti Prendere E chi Affronterà Il Liverpool In finale Di questa edizione Purtroppo È successo Di tutto Siamo molto Scottati No 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 ti giuro Simo Simo Ma sono molto scottato Palla per Maurillo Va Maurillo Palla dentro Occhio ad Abbatiello Puntariccio Ancora Abbatiello Poi Dario Destro di Dario Pisano Respinge Guarino Rimane lì Colpo di testa Ancora di Guarino Pisano blocca il pallone Palla di là Verso Prisco Che Sistema Al destro Al volo Sare tutto Con palla Palla lunga Sbuca Dario Pisano Poi Dario Ancora Salta Prisco Dario Fino in fondo Scipola Sbaglia Pisano Guarino Destro Largo E alto Soprattutto Amoroso Parte lui Pallone per Pisano Dopo il rimbalzo Occhio perché c'è Giangiz Che vuole il pallone Abbatiello sale in cielo Ad agganciarlo Ancora lui Che ha equilibrato Un po' il match Nel primo tempo Poi Ancora una volta La differenza enorme Tra le due squadre Si è vista Come in questo caso Segna ancora Giangiz Piccolo Ehi Gatti vai Baby Laci stava Fai niente Scusi 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 Parte Formisano Rimessa per Reddy Poi Dario Contatto Ancora Guarino Poi a Miranda Spara via Ancora Dario 1-2 di Guarino che sbaglia Restituisce praticamente la rimessa Ma a Liverpool Una rimessa che era dubbia E lui è stato molto sportivo Occhio pisco Piccolo recupera Abatillo Aggredito Prisco Così Ancora Abatillo Ancora lui Roulette così di amoroso Che poi attacca Maurillo Rimane qui il pallone Piccolo Attenzione Abatillo Che ha qualche problema Limangello Amoroso Spalla contro spalla Amoroso Morto Morto lì Morto amoroso Va Maurillo Va Abatillo Putta l'uomo Veloce Abatillo Si infila in aria Ai 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 Scivola sul pallone Poi Prisco Recupera Dario Shots per lui Rete clamorosa C'è il gol di Abatillo C'è il gol di Abatillo Mene raccontamelo che mi hai distratto E' qua Bordata Bordata per l'angolino Palo gol di Abatillo Quanto stiamo 15-5 In questa partita In totale Un punteggio Tennistico Da basket Non lo so Perché Con 11-5 Sarebbero 18-5 Nel doppio confronto Occhio a sbaglia Miranda Destro Buca la porta Abatillo Hai equilibrato Hai equilibrato Parte per piccolo Largo Ma che formi Sei andato a fare la doccia 6-7 minuti alla fine Allora Con Dario che va Dario per Mauriello Buono lo spunto Abatillo C'è difenza che lo attacca Ancora Abatillo Occhio ai numeri Con le mani Dentro Fuori aria Dario Parte piccolo Agganciato Si continua Il pallone per Riccio Cerca Prisco Abatillo su di lui Se ne va ancora Cerca la porta Pisano non trattiene Guarino troppo In controtempo Riccio di là Sbatte sul suo avversario Prisco raccoglie Fa sedere il portiere La palla era uscita Ultimi minuti Settimana numero 22 Semifinali ormai concluse Sei finaliste Cinque scelte Una non si sa Questa è bellissima Forse anche un po' triste Colpo di tacco di Abatillo Difenza Amoroso Attaccato E poi Dario Va Dario Destro Guarino Fondo Prisco palleggia Ancora Prisco Ancora Abatillo Dario Altra occasione per lui Si allarga Prova il destro A incrociare Con le mani Dario Maurillo Poi gran numero Di piccolo Che prova ad andare C'è Prisco Largo Servito male Vediamo Avolio Lascia scorrere sul fondo Ready Per Guarino Va Guarino Miracolo di Pisano Grandissima parata Due minuti alla fine Poi Il Liverpool Potrà pensare Direttamente Alla finale Che probabilmente Si terrà tra due settimane E non la prossima Vediamo Guarino Anzi Piccolo Che va Se ne va ancora piccolo Accelera Ready su di lui Piccolo dietro C'è un contatto Ancora amoroso Il più sfortunato Dello sbordone League Ma Suo Il gol di apertura All'andata Che grande passaggio Che ha fatto Hai capito? No non l'ho capito Piccolo Che grande passaggio Che ha fatto Battuta di Jenny Perna Occhio al pallone Perriccio Dario Dario Prisco Si gira Calcia Sul muro Piccolo Ancora Prisco Che palleggia Mauriello Che alza Campanile Tutti a casa Il Liverpool Conquista La finale La seconda Consecutiva Dopo l'edizione numero 7 Anche Nella numero 8 Dario 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 Dario